Sono 20 le proposte progettuali presentate per il bilancio partecipativo 2022, così come si legge nell'avviso pubblicato sul sito del Comune Nisseno. Tra queste una proposta progettuale con doppia imputazione alle retematiche e una arrivata fuori termine. La scadenza era quella delle ore 12 del 15 settembre. Nello specifico sono due le proposte per l'area tematica sport, 14 per la cultura, una per la cura e bellezza del centro storico, una per lo sviluppo economico occupazionale, una con doppia imputazione di arete tematica, cioè cultura e sviluppo economico occupazionale, e una per la cultura fuori termine. Si tratta delle proposte, agape, famiglia e disabilità al centro. Senza confini riprendiamo a giocare insieme. Spazio ragazzi, il testo nel cassetto, food and art experience, seconda rassegna musicale suonini tinere e pensiero stupendo, aperinissa, Anko Smith and Grit, percorsi di arte umana, to win in life than in sport per vincere nella vita poi nello sport, dal mito alla scena, un cinetto artistico su telaio in merletto, sulle ali del successo, musicando, le vie dello zolfo, ti racconto caltanissetta, itinerari di legalità, gender equality leader, festival delle culture contro le mafie e pupi festival. Le 19 proposte che sono state presentate entro i termini dovranno ora passare al vaglio della commissione valutativa per il parere di fattibilità. La stessa ha a disposizione 20 giorni per esaminare le proposte progettuali, successivamente verranno comunicati progetti ammissibili, modalità e termini di votazione.